Oggi, diciamolo con grande chiarezza, l'Inter la mette sui scenari giusti per far sì che possa accompagnare la qualificazione in cioce, si dice a Roma, in ciabatte, con tranquillità. Perché io penso che le partite più difficili siano quelle che ti obbligano a portare a casa il risultato, a portare a casa i tre punti in contesti oggettivamente molto tosti. Quindi Inter-Salisburgo, sulla carta, è un match che uno dice che ci vuole che l'Inter vinca in casa col Salisburgo. Poi però qual è il problema? Che se vinci contano tre punti come qualunque altra partita o eventualmente trasferta europea. Se non vinci è grave. E se non vinci tutto quello che poi accadrà da oggi in poi in Champions League ti si ripercuote addosso. Quindi nonostante l'incontro dell'Inter non fosse poi così tanto difficile, perché parliamoci chiaro, Inter-Salisburgo sulla carta, a Milano, era tutto forché semplice, era tutto forché difficile. E forse l'Inter, proprio per un discorso di costruzione, ha fatto anche meno di quanto effettivamente gli si poteva chiedere. Oggi ragazzi, che cazzo, oggi ragazzi l'Inter vince e soprattutto fa tre punti pesantissimi. Pesantissimi. Innanzitutto perché stasera i tifosi dell'Inter, vabbè sicuramente si guarderanno il Napoli con l'Union Berlin, ma si guarderanno con grande tranquillità anche il match tra Real Sociedad e Benfica e se lo guarderanno in ciabatte. Con il Benfica tra l'altro che è costretto a vincere. Partiamo da sto presupposto qua. Perché oggi la Real Sociedad arriva con quattro punti, quattro punti. E dall'altra parte il Benfica ne ha zero. Cioè se il Benfica perde è praticamente fuori dalla lotta, anzi è proprio fuori perché si va a 7-7-3-0. Il Benfica è costretto a vincere e lo può fare perché si gioca in Portogallo. Poi però, insomma, l'Inter che vince batte il Salisburgo dopo aver trionfato nell'ultima gara, quella tra l'altro sempre con tutte le, come posso dire, con le delicatezze del caso. Perché poi vincono 1-0 in casa col Benfica, aveva pareggiato con la Real 1-1 in Spagna. L'Inter sta facendo secondo me il percorso che deve fare e portandosi a 7 punti guarda le altre con fare di superiorità. Poi se la Real Sociedad dovesse vincere stasera in Portogallo avrebbe forse fatto anche di più di quanto fatto dall'Inter. Perché comunque l'Inter si è abbattuto il Benfica, ma in casa e soprattutto non dimentichiamoci, questo è poi un noto che dovremmo andare a sciogliere durante questo video. Non dimentichiamoci che l'Inter ha giocato due partite su tre in casa. Quindi è vero che la più difficile l'ha giocato fuori casa, quella con la Real Sociedad. Anche se poi secondo me la trasferta piuttosa del girone è quella in Portogallo, ma il Benfica non lo sta dimostrando. Il fatto sta che l'Inter affronta e batte il Salisburgo. Come lo affronta e come lo batte? Innanzitutto lo affronta con una formazione che diciamo è, non dico obbligata, perché l'Inter oltre a Arnautovic e Quadrado non ha calciatori infortunati sulla carta. Però molti arrivano da scelte tecniche. La scelta tecnica, ad esempio, è quella di non far giocare Barella. Io non ho capito se secondo Inzaghi... Poi vabbè, parlare di turnover è sempre strano in un contesto di questo tipo, perché poi hai una squadra che messa in campo, se so i titolari o se so i panchinari, comunque è difficile parlare di turnover. Però credo che addirittura Inzaghi abbia visto la gara in casa con la Salisburgo e abbia pensato di fare un minimo di turnover. E questo secondo me rende il mister dell'Inter molto maturo. Una volta, fino a un paio di stagioni fa, era adatto solo alle competizioni europee e poi in campionato un po' si perdeva. Che poi è quello che è successo lo scorso anno dove l'Inter ha preso la Champions, ok, ma lo scorso non l'ha mai nemmeno sognato di vincere. E invece in Champions League arrivata fino in finale. Quest'anno capisce che, sì, sono tre punti fondamentali, però si può anche giocare in casa col Salisburgo facendo, non dico tanto, un minimo, una piccolezza di turnover. E questo è quello che realmente l'Inter fa, perché se c'è somma e rimporta, e la difesa, ve lo dico sempre, per me questa è la titolare con De Frey, con Bastoni e con Pavard. Ma faccio fatica a trovare titolari e panchinari, se si considera poi il fatto che lui va a giocare spesso a Cerbi negli 11 titolari. E anche Darmian che giochi o da Braccetto o da Terzino. C'era Dunfri, ma a sinistra ad esempio non c'era Di Marco, c'era Carlos Augusto. In mezzo al campo c'era Cialanoglu, c'era Mkhitaryan, c'era Frattesi, che ve la leggo così e mi dite, è una squadra super titolare. No, in realtà, no, perché Frattesi non è visto tra i titolari da Simone Inzaghi, è visto in cui ruolo Barella, che fa panchina con Di Marco, che fa panchina con Acerbi e fa panchina anche Duram. Quindi quattro calciatori che poi pian piano molti di loro entreranno in campo, Barella subito, poi piano piano anche gli altri, partita in corso. Ecco, molti di questi titolari vengono lasciati fuori, vengono lasciati come seconde linee, che per me è una cosa che va considerata. E davanti giocano Lautaro Martinez con, quindi non Duram, ma Sanchez. Ed è proprio Sanchez a sbloccare la gara, sono contento per lui. Si è preso diverse critiche, se l'era presa precedentemente al suo addio all'Inter, se l'è ripresa quando appunto adesso l'Inter l'ha ripreso. Io credo che, insomma, 1-1 il gol del vantaggio da palla di Frattesi per Sanchez, il nigno maraviglia, che realizza sia uno spot bello e importante per l'Inter stessa. Perché il tuo panchinaro di centrocampo, che poi è Frattesi e mi fa ridere perché giocherebbe i titolari in tutte le altre 19 squadre italiane. Dal palone per il tuo centravanti di panchina c'è Sanchez, anzi il quarto, se dobbiamo essere sinceri perché lì non c'è nemmeno ci sarebbe Arnautovic, ma è rotto. Ecco, in questa sorta di collante qui, alla fine trova il gol del vantaggio Sanchez e secondo me, vi dicevo, si è preso troppe critiche, molte più di quante realmente, a mio avviso, il nigno maraviglia si sarebbe meritato. Anche perché quando è andato a giocare fuori, che poi è tornato dopo un anno, che lui era stato in Francia, credo al Marsiglia, aveva fatto tantissimo, tanto bene, aveva fatto tipo 15 gol e 10 A. Sia, una cosa veramente che andava in gol e faceva andare in gol con una tranquillità disarmante, ma veramente disarmante. Quindi sono contento anche per lui che insomma inizi a sbloccarsi. In generale l'Inter è molto più forte. Se l'Inter fatica a dominare la gara, non a dominarla sotto il punto di vista del gioco, perché poi la domina sotto il punto di vista del gioco, gioca molto meglio, calcia molto più verso la porta, non importa, perché poi la porta la prende relativamente poco, specie nel primo tempo, poi deve riorganizzarsi eccetera, ma l'Inter è una squadra che riesce comunque a gestire. E il fatto che tu riesca a gestire comunque in gare europee, secondo me è tutt'altro che scontate, perché poi comunque il Salisburgo è una squadra che c'ha Kiergarden, che c'ha Sucic, che c'ha Simic, che c'ha Dedic, che c'ha Sole, Pavlovich. Insomma, una squadra che secondo me non è male, perché il Salisburgo per come la vedo io, per come mi sembra a me, è una squadra che può fare in un certo senso un buon percorso nel girone. E io lo ripeto, non a caso c'ha tre punti fatti col Benfica la prima giornata in cui loro sono andati in Portogallo a vincere 0-2, cioè questo gli fa capire anche il livello del girone, che comunque è molto equilibrato, il Salisburgo batterlo non è la cosa più scontra del mondo. Poi che all'Inter si è andata meglio di tutte, o comunque è una di quelle a cui è andata meglio, non sono qui a metterlo in dubbio, cioè nel senso il girone dell'Inter è un girone dove l'unica squadra che lo scorso anno ha overperformato in Champions League, di fatto è stato il Benfica che è arrivato fino ai quarti di finale, ma tra l'altro ci è arrivato facendo benissimo al girone, perché è passato davanti, primo davanti alla Juve e davanti al Paris Saint-Germain. Poi Aglio Ottavi ha beccato, non ricordo, ma una squadretta, l'ha eliminata, non me la ricordo minimamente, ma era una squadretta che aveva passato forse da seconda a un girone molto semplice, ma non lo ricordo comunque, mi ricordo questa cosa qui. E nonostante questo è la squadra che sta deludendo di più in Champions League, quindi le altre due sono squadre che la Roma ha affrontato in Europa League lo scorso anno e la gente c'era che erano scarsi, cioè Real Società e Salisburgo, io non lo credo minimamente, però sotto questo punto di vista l'Inter è andata molto bene. Però ragazzi l'Inter sta facendo l'Inter, perché se tu ospiti il Salisburgo e lo batti, se tu ospiti il Benfica e lo batti, se tu vai a, non mi ricordo come cazzo si chiama, lo stadio della Real Società, comunque vai lì in Spagna e vinci in casa della Real Società e Parigi in casa della Real Società, 1-1, comunque un risultato equilibrato, in cui tra l'altro in ogni partita che giochi dimostri di avere sempre una buona difesa, una coerenza mentale dove non vai mai a puttane nel magari cercare di fare una linea difensiva, nel prepararti un piano partita, poi che Inzaghi sia il re di coppe non lo scopriamo di certo oggi, chiaramente, e quindi questo aiuta tanto il fatto che Inzaghi quando poi si tratta di partite europee fa salire anche l'intensità della partita stessa. Però come vi dicevo, vi ho ripetuto a più riprese, l'Inter ragazzi è questa, cioè l'Inter è una squadra che io ve la leggo la panchina con cui, vabbè oggi ha fatto un leggero turnover, però vi leggo la panchina con cui l'Inter inizia, vi leggo prima la formazione titolare, no? Sommer, bastoni de fra i Pavard, Dumfries, frattesi, c'è l'anoculo, Migheterian, Carlos Augusto, Sanchez, Lautaro, ve la leggo perché, perché così vi rendete conto che non è che c'ha delle pippe in campo, c'ha tutti i giocatori forti, la panchina è Acerbi, Aslani, Audero, Bissek, Darmian, Di Marco, Klassen, Turam, Cioè ma di che stiamo parlando? Ma di che stiamo parlando raga? L'Inter per me, io ve lo dissi a inizio anno, non è la favorita per arrivare in finale di Champions di nuovo, non lo è, però può farlo, può farlo, poi dipenderà molto dagli accoppiamenti, se passi prima questo girone intanto vai a prendere le seconde, poi intanto passalo, poi vai a prendere le seconde, un altro vai a prendere le seconde, guardiamo le seconde e vediamo se in un girone c'è magari il Galatasaray, piuttosto che in un altro che magari c'è il Siviglia, piuttosto che magari in un altro dove puoi beccare, che so, l'Ipsia o ancora il Porto, c'è tutte squadre che l'Inter per me può battere, una volta che magari fai quello step in là e arrivi ai quarti di finale, poi è tutto culo e preparazione di partita, sul culo vedremo come va, sulla preparazione di partita, ed è partito bene il culo per il girone, sulla preparazione di partita Inzaghi sotto il punto di vista secondo me è un fenomeno, e quindi c'è anche poco 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 da dire, e quindi niente, questo è, questo era di esamina rapida, intanto si stanno chiamando quindi io attacco, fatemi sapere la vostra mi raccomando con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, io come al solito vi ringrazio, stasera ovviamente post partita di Union Berlin Napoli, quindi dell'altra gara dell'altra italiana, anche perché pure il Napoli insomma, ecco il Napoli non può proprio sbagliare, visto che comunque sta facendo bene, ma c'ha tre punti come il Braga, il Braga affronta il Real, il Napoli non può sbagliare, deve fare due vittorie, andate a ritorno contro l'Union Berlin per portarsi a nove e poi affrontare il girone di Champions con una testa un po' più sgombra, comunque vabbè, qua parlavamo dell'Inter, quindi rimaniamo all'Inter, iscrivetevi al canale, buon c'è l'allene come sempre, ci vediamo al prossimo video, ciao regà!